Il discorso del... avevamo programmato le gole del Verdone, che come dovevamo farle a Lugio, poi ad agosto... Allora, le gole del Verdone ci affianchiamo al motoclip di Gravellona, che loro partono il 29 e il 30 al primo di Lugio, 29 di giugno, 30 giugno, primo di Lugio. Lo facciamo con loro, perciò non abbiamo neanche il problema della programmazione. Poi abbiamo la foresta nera, che ho già fatto il programma, l'ho dato a Luigi. Dobbiamo decidere però la data. Io ho in mente una data, però è giusto che la decidiamo insieme. E poi ho organizzato anche l'Austria e la Slovenia. Queste sono le gite che abbiamo programmato fuori città, fuori dall'Italia.